Maltempo assassino a Malacca in Spagna, una donna è morta a Estepona, cittadina nei pressi della nota località turistica nel sud del paese, aveva 26 anni ed era rumena, aveva chiamato i soccorsi ma non sono arrivati in tempo, una sua amica ha parlato con lei poco prima che accadesse la tragedia. Mi ha chiamato questa mattina, la corrente l'ha presa di sorpresa, deve essersi addormentata e non si è resa conto che le acque si sono alzate, era troppo tardi ormai, le avevo detto di uscire e non deve aver fatto in tempo. Le tempeste continuano a Malaga, questo fine settimana la città ha sofferto precipitazioni e venti fortissimi, oltre 200 litri di acqua per metro quadrato, il maltempo adesso si sta dirigendo verso la parte orientale di Andalusia e l'allarme meteorologico è passato da rosso a giallo.